Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, è un sacco che non ci vediamo di nuovo come al solito, io ogni volta faccio un video Boromir amore mio Io ogni volta faccio un video poi sparisco per un po' e mi dispiace tanto, allora se siete la prima volta che mi vedete Se è la prima volta che mi vedete, ciao a tutti io sono Doina, questo è Boromir E lui ama stare seduto sulle spalle pensando ancora di essere un gattino minuscolo minuscolo che può permettersi di fare queste cose Se invece siete qui da tantissimo tanto tempo e aspettate che io torni a pubblicare su YouTube Sono qui anche per spiegarvi un po' quella che è la mia vita in questo momento E vi prometto, questo lo posso promettere assolutamente, che finito aprile potrò avere un po' più di tempo da dedicare in generale a tutto Perché in questo momento non riesco a fare assolutamente quasi niente neanche su Instagram o su TikTok ho lasciato un po' tutto perdere Però adesso vi spiegherò un po' qual è la mia situa in questo periodo, quello che mi aspetta per i prossimi mesi e perché parlo di fine aprile Ecco, quindi niente vado a farmi un tè, torno perché devo sparlare un po', principalmente sparleremo Ecco, quindi fatevi un tè anche voi se avete voglia e ci vediamo tra poco Prima cosa importantissima, scusate se non sto usando la videocamera, non sto usando il microfono Ma sto ancora cercando di risolvere i miei problemi col microfono e la fotocamera, sì, è troppo una rottura di valle metterla Perché non si mette mai un focus, perché purtroppo con la fotocamera è un po' vecchiotta Quindi per stavolta filmerò col telefono, dovrebbe esserci una qualità abbastanza decente Quindi va bene così per stavolta, anche perché oggi semplicemente sparleremo, non è niente di importante Quindi potete anche mettermi da parte e ascoltare basta se vi interessa Quindi in tutto ciò oggi vi racconterò un po' anche il perché questo video si chiama del... Sto facendo due università del perché, perché se mi seguite da un po' sapete che avevo iniziato a settembre il mio dottorato Quindi tutto bene ciò che finisce bene, sono entrata al dottorato dopo tantissimi anni che ci provavo Ero molto felice, purtroppo a novembre c'è stata una cosa che è successa nella mia vita Che si è aggiunta un po' a tutto il disastro che sta accadendo ora come ora nella mia daily life Però non parleremo di quello perché non voglio concentrarmi su quello, non voglio ancora parlarne onestamente Perché è una cosa molto brutta e non lo so, voglio parlarne alla fine quando sarà tutto finito e mettermela via semplicemente Quindi in tutto ciò oggi ci concentreremo sul discorso università e cosa sta succedendo e perché sto facendo questa cosa Per chi mi segue da un po' sia su Instagram sia qui, ne ho parlato comunque Io a gennaio del 2022 ho iniziato la seconda magistrale Questa seconda magistrale in realtà doveva essere un percorso accelerato al dottorato Che è una cosa che esiste qui o comunque ci sono altri paesi in cui esistono Sicuramente anche in Italia magari esiste Che significa semplicemente che invece di fare la tesi della magistrale tu vai direttamente al dottorato Questa cosa nel mio caso sono stati loro a propormela Anche perché io avevo già alle spalle un'altra magistrale Questa non era la mia prima magistrale, non è che sono un genio Quindi oh my god, ho schippato la tesi della magistrale Quindi sto andando al dottorato Quindi sono stati principalmente loro a iniziare questo discorso Io ero disposta a fare questa seconda magistrale e poi provare per il dottorato The end Sono stati la frode più grande che avevo subito in questa mia vita Perché sì, alla fine nessuno si è preso le proprie responsabilità Hanno fatto le merda fino all'ultimo secondo E non ho intenzione di dirvi veramente in tutti i dettagli tutto ciò che è successo Perché sono discorsi noiosi, non è tanto perché non voglio parlarne O c'è qualcosa di illegale sotto E veramente non ho voglia di dire ogni dettaglio Di ricordarmi quanto mi abbiano fatto incazzare E quanto avrei voluto bruciare con l'università Quindi l'unico consiglio che posso darvi Non andate all'università di Montreal Perché fa cagare Perfetto Quindi cosa è successo? Io ho iniziato la magistrale Ok, mi hanno detto devi fare il primo anno di corsi E poi invece di fare la tesi va al dottorato top Cosa è successo? Nel frattempo loro non mi hanno mai trattata da studente accelerato Cioè non mi hanno mai trattato come Ok, tu sei alla magistrale e mi stai facendo il percorso accelerato Non mi hanno mai detto cosa si aspettassero da me Cosa dovevo fare Ero sempre io a fare le domande E ogni volta non erano mai chiari su niente Quindi io ovviamente continuavo la mia vita E continuavo a pensare che questa cosa sarebbe andata in porto eccetera Finché dopo aver finito il mio secondo trimestre Quindi mi mancava solo un trimestre per finire tutti i corsi Sono stata io a contattarli personalmente E loro senza assolutamente darmi alcuna spiegazione Ho detto no, tu al dottorato non ci vai Così dal nulla Malché io quando ho chiesto spiegazioni Non hanno mai veramente voluto darmi le spiegazioni Comunque le spiegazioni che mi hanno dato sono state veramente molto da paraculo Al che lì Questa è l'estate 2022 È arrivata un'altra crisi nell'estate 2022 Che è anche quella Me la sono lasciata alle spalle Non ha senso parlarne Quindi adios Però in tutto ciò Tra questa e tra quest'altra crisi Ho passato uno degli stati peggiori della mia vita Perfetto Quindi cosa è successo? Che quell'estate E ho detto vabbè you know what Ho già sprecato due trimestri Ho già pagato due trimestri Perché qui in Canada si paga a trimestre E non è che costa poco Anche per me che sono già canadese Quindi ho deciso di you know what Mi porto questa magistrale a casa Sarà un titolo in più Magari mi aiuterà per la missione al dottorato Che ne so Vabbè facciamolo E anche un po' per tenermi occupata Per tenere la mia mente occupata In quel periodo che era molto difficile per me Quindi cosa è successo? Che ho detto you know what Va bene Continuo Faccio la mia magistrale Farò la mia tesi No worries Finisco il mio Tutti i miei corsi Finisco tutti i miei corsi È andato tutto bene I professori erano una delizia Cioè io i corsi li ho amati Mi sono trovata super bene Compagni adorabili Niente Mi sono trovata veramente bene Quindi alla fine ho finito i corsi Quindi a gennaio del 2023 Io dovevo iniziare la tesi Avevo già una Un'area latrice Che ha accettato di essere la mia realtrice Nonostante abbia detto Che non è proprio il suo campo La mia tesi Però comunque Essendo una tesi di magistrale Non serve questa grande expertise Perché appunto È una ricerca minore Rispetto per esempio a un PhD Quindi praticamente a gennaio del Anzi a novembre Lei mi aveva detto Io le avevo detto Guardi io a gennaio torno in Italia Starò via un mese Quindi per caso ha voglia Che ci incontriamo prima Così che parliamo Capiamo un po' come strutturare Questa tese eccetera E lei mi ha detto Sì va bene Poi lei si è rifiutata Due volte di farmi partecipare Alle borse di studio Cioè capite che grazia Di le realtrice avevo Cosa che secondo me È stata un po' illegale Ma ok Sono io che sono troppo buona Col mondo E non sono andata A pestarla Ma questi sono altri dettagli Anche lì Questo dettaglio L'ho detto Quando ho fatto la lamentela Ma non si sono assunti Assolutamente Nessuna responsabilità Perché ripeto Sono tutti dei paraculi E anche il mondo accademico Fa schifo Perché effettivamente A loro degli studenti Non frega un cazzo di niente Top Ecco perché Io voglio entrare Nell'ambito accademico E darle A chiunque si comporta In questo modo Quindi in tutto ciò La mia relatrice Non si è più fatta sentire Da novembre L'ho contattata di nuovo E mi veniva fuori Nel messaggio automatico Che diceva Sono via Fino al 13 di gennaio E in quel momento Mi sono detta Vabbè 13 di gennaio Io sarò in Italia La contatterò Il 13 di gennaio L'ho ricontattata E mi è venuto fuori Che lei non sarà più Non è più Cioè Non sarà Available Fino al 13 di marzo Una cosa del genere Io ho detto What? Cioè E in tutto In tutto questo periodo Io non ho mai ricevuto Un'email che mi dice Se guarda Per problemi X Non so Non potrò fare Non potrò essere La tua relatrice Non potrò fare questo Non potrò fare quest'altro Niente Zero Al che io ho detto Vabbè non importa Finisco il mio mese in Italia Sono tornata in Canada A febbraio Poi del 2023 E quindi Vedendo che lei Non mi risponde più Ho contattato il dipartimento Ho detto Hello Cioè Io sono senza realatrice Cosa faccio Cosa non faccio E loro mi hanno detto Eh lo so Che lei Sta avendo dei problemi personali E poi ho detto Va bene raga Cioè A me Cioè Se lei ha un problema personale Va benissimo Cioè Io non sto facendo una colpa a lei Sto facendo una colpa a voi Come dipartimento Che non vi state prendendo cura Dei vostri studenti E raga Cioè Stiamo parlando di un dipartimento Di letteratura inglese Cioè Non stiamo parlando Del dipartimento Oltretutto la magistrale Siamo in pochi anche Siamo pochi Non ci sono così tanti studenti E ci conoscete per nome e cognome Letteralmente Quindi Anche lì ho detto Vabbè Però Posso Cioè Posso avere un'altra persona Che mi possa seguire Posso fare qualcos'altro Alla fine si vede che Niente Lei si è fatta sentire Si vede che forse Il dipartimento ha insistito Non lo so Lei si è fatta sentire Al che Lui ha detto Guardi Io sto iniziando la tesi Perché comunque Io vorrei finirlo Entro aprile Mentre alla fine Lei si è fatta sentire Io le ho detto Sto iniziando la tesi Lei mi ha detto Top iniziala Quindi ho iniziato da sola A scrivere questa tesi Per me era la terza tesi Rega Cioè Non è che non so scrivere una tesi Ero già pronta Sapevo già quello di cui volevo parlare Avevo già tutto pronto Ero già organizzata Vabbè Scusate il rumore del mio vicino Quindi ero già tutta organizzata Tutta pronta E Ho scritto I primi due capitoli Ho scritto l'introduzione E poi i primi due capitoli Quando le ho mandato All'inizio ho detto Le mando prima i primi due capitoli Però l'introduzione Non ci faccia molto caso Perché l'introduzione Ovviamente Più tu scrivi la tesi Più magari Puoi cambiare idea O puoi trovare delle cose Altre cose interessanti Che possono essere connesse Quindi magari Nell'introduzione Cioè l'introduzione Andrebbe fatta alla fine Quando magari hai Tutto un quadro Più completo Di quello che stai facendo Però ho detto Comunque io l'introduzione L'ho scritta Di quello che vorrei far Scrivere C'è Quindi puoi leggerla Però ecco vorrei Giusto dirle Che magari Cominci con i capitoli A correggere effettivamente Regà Quando vi dico Che questa è stata Tipo la mia peggiore esperienza Con un insegnante In generale E io vengo Da uno scientifico Fatto in Italia Una triennale Fatta in Italia Con professori Terribili Ecco Mi dava dei feedback Che non erano feedback Mi scriveva solo Puntino di domanda Fine Mi diceva World source Cioè questa era L'unica cosa Che lei sapeva scrivere Sulla mia correzione E a un certo punto Mi ha anche Mi correggeva Mi ha corretto A un certo punto Perché io La tesi L'ho iniziata a scrivere Su Tolkien Io l'ho anche scritta Questa tesi Ma non importa Niente è andato perduto Perché tutto col materiale Che io ho scritto Lo utilizzerò Per la mia tesi Del PhD Però a un certo punto Io stavo scrivendo Delle cose Che erano anche Citazioni Di Tolkien stesso Perché lui Parlando comunque Del Middle Earth Comunque parlando Della Terra di Mezzo E di tutte Diciamo Tutte le Razze Che ci sono Nella Terra di Mezzo Hobbit Elfi Tutte queste robe qua Men Quindi Uomini Cioè quindi Gli uomini Cioè le persone Normali Chiamavano così Sono capitalized Cioè sono Con la maiuscola In inglese Perché si riferiva Proprio Alla razza So che razza Non è una parola Che viene più utilizzata In questo momento Ma non so come definirlo E quindi Lei mi diceva Mi ha fatto un commento Del tipo Devi mettere Humankind Perché devi Utilizzare il Gender Neutral E io ho detto Amo Cioè queste sono citazioni Dell'autore stesso Del suo libro Questa cosa mi ha fatto Un sacco ridere Perché ho detto Va bene Stai ignoranti Raga Però nel senso Basta fare una ricerca Anche su Wikipedia E si capisce Del perché Elves Hobbits Men Wizards E tutto In maiuscolo Vabbè Non importa Al che io Le ho messo il commento sotto Spiegandoli un po' Questa cosa Le ho detto Non è che posso cambiare Gentle Neutral Cioè lo so che Viviamo nel 2022 2023 al tempo Però qua si tratta Di un libro Che ha queste cose In maiuscolo Cioè è semplicemente Prendere la La citazione Direttamente dal libro Comunque dall'autore stesso Poi a un certo punto Ho avuto anche da dire Sulla questione Del fatto che io Stavo utilizzando Un libro Che era scritto Da Tolkien stesso Cioè letteralmente Io ho il privilegio Di poter lavorare Su una cosa Dove le mie Fonti principali Vengono dall'autore Stesso Del Signore delle Nelli Cioè C'è questo libro Che si chiama The Letters Che sono le lettere di Tolkien Se per caso Se siete interessati Leggetelo È molto bello Dove lui Ha scritto Un sacco di cose Interessantissime Sia sul suo processo Di scrittura Sia su tutte le cose Che ha scritto Sia su Alcune cose Magari Simbolismi Anche se lui Non era molto Un tipo Da simbolismo Insomma Ci sono un sacco Di dettagli Super interessanti Soprattutto Per la mia ricerca Questo libro È stato Il sacro graal In questo momento Mi ha fatto Mi ha fatto molto ridere Che lei ha detto Perché usi questo libro E io ho detto Amo perché È libro letteralmente Scritto da Tolkien Stesso Quindi le fonti Vengono dall'autore Stesso Cioè io Non devo andare A cercarmi Uno che ha scritto Un article Su Tolkien Dove mi ha detto Quello che Tolkien Intendeva Quando posso Letteralmente Leggere le sue Stesse parole E quotare Cioè E citare Direttamente lui E ci sono rimasta Tipo un po' così Io ho detto No io non ci posso Credere che devo dare Veramente queste spiegazioni Io sto vedendo Troppo lungo Insomma lei poi È sparita Spariva continuamente Mi rispondeva ogni Due o tre settimane Per darmi dei feedback Che niente le piaceva Niente di tutto ciò Che scriveva Le andava bene Eccetera eccetera Io riprovavo A riscrivere le cose Io non avete idea Di quante volte Ho riscritto le cose Solo per fare contenta lei E lei non era comunque Mai contenta Proprio perché Non mi dava dei feedback Veri Cioè non mi diceva Cosa c'è Che non andava Finché Siamo arrivati a giugno Siamo arrivati a giugno E io ero Stavo pagando Il secondo trimestre Di redazione Perché qui Quando inizi la tesi Sei in Tipo Redaction Si chiama Ovvero che stai scrivendo La tesi E tu comunque Quei trimestri Li stai pagando Cioè non è che tipo Ah ok basta Hai finito i corsi Non paghi più l'università Quindi io a giugno Sono andata A fare una lamentela Sono andata Nel dipartimento E ho detto Non mi trovo più bene Con questa relatrice Lei non mi sta aiutando Per niente Io sto facendo Tutto il lavoro Da sola Qualsiasi cosa io faccia A lei non va bene Quindi io non posso Lavorare in queste condizioni Io non posso fare una tesi In queste condizioni Io sto scrivendo Questa tesi da sola E ogni volta Che le mando qualcosa Non le va bene niente Ma non ricevo Di feedback effettivamente Il dipartimento Ovviamente Anche loro Inutili come la merda Hanno semplicemente Detto Sarebbe molto più facile Che risolvesti Le cose con lei Invece di cambiare Il relatore Perché comunque Non è molto facile Devi trovare un altro prof Che sia disposto A prendere la tua tesi E comunque la tua tesi È comunque un argomento Un po' complicato Io l'ho guardato Ho detto Raga Cioè siete un dipartimento Di letteratura inglese E non c'è uno stronzo Che conosca Tolkien Ma siete seri Ma vergognatevi Quindi ho detto Vabbè Ok You know what Parlerò con la mia relatrice Però se le cose non si risolvono Voi mi dovete aiutare Io ho intenzione Di laurearmi Che ve lo vogliate o no Ho parlato con la mia relatrice Le ho spiegato Sono andata al dipartimento Ho parlato della situazione Le ho spiegato In modo molto gentile Perché Purtroppo Sono una persona Che anche se sei una persona Di merda Ti rispetto lo stesso E le ho spiegato Che insomma Secondo me Non c'è molto feeling Tra noi due Secondo me Magari la ricerca Che a lei non interessa O secondo me Semplicemente Magari visto Che ha dei cazzi suoi Problemi suoi Non riesce molto A seguire Tanti studenti Perché ne aveva comunque Tanti in quel momento Quindi ho detto Mi dica lei Se Io sono disposta A continuare A lavorare con lei Però Dobbiamo venirci incontro Cioè Dobbiamo magari incontrarci Parlare di questa cosa E capire Dove c'è Che non ci Che non ci troviamo Al che all'inizio Pensavo che lei L'avesse capito Cioè tipo È stata molto gentile Mi ha mandato un email Tipo Dio Doina Scusami Tanto Bla 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 È stata super carina Al che Quando lui ho inviato Di nuovo Altro materiale Da leggere Lei mi ha solo risposto Dicendo You're still Don't get it Cioè mi ha proprio risposto Tipo Come una scema Cioè tipo Ancora non capisci Basta Non voglio più essere L'attorealatrice Una cosa del genere Io tipo Sono rimasta tipo Ok That Cioè That escalated quickly But ok Quindi alla fine Ho scritto al dipartimento Ho detto Beh Questa mi ha droppata Quindi Beh Dovete aiutarmi In questo momento È una vostra responsabilità Perché non sono più Io che l'ho droppata Ma è lei che mi ha droppata Quindi credo che In questo momento Sti Cioè Tocchi a voi Effettivamente Aiutarmi In questo caso E Il dipartimento È stata una vergogna assoluta E Praticamente Hanno detto Allora Io ho mandato un'email Lunghissima Dove ho messo Dove ho messo Il dipartimento Ho messo Il vicerettore E Il Il responsabile Totale Del proprio Del Non solo del dipartimento Di letteratura Ma proprio Del Di quella parte Dell'università Non so come definirla Quindi Ho scritto Quest'email Di tipo 4000 parole Perché l'ho scritta In word Dove ho spiegato Tutto ciò che è successo Dall'inizio Cioè Di tutta la roba Dell'accesso al dottorato Di tutto lo scam Letteralmente Che c'è stato Di come Lei mi abbia impedito Di partecipare Per esempio Alle borse di studio Perché praticamente Per partecipare Alle borse di studio Deve avere una lettera Del tuo relatore Se il tuo relatore Non te l'ha fatto Non puoi partecipare Che è una stronzata Lo so Ma è quest'università Che funziona così Sono tutti schizzati male Poi ho spiegato Tutta la questione Della tesi Ho spiegato Tutte queste robe qua E ho detto Io ho bisogno Di aiuto Io in questo momento Sì magari Questa è la prima volta Che vi capita Una situazione del genere È magari Una situazione delicata Però voi come dipartimento State fallendo I vostri studenti A me non mi frega niente Che sono la prima Alla quale è successa Una cosa del genere E voglio anche essere l'ultima Io non auguro A nessuno Lo stress Che voi mi avete provocato E sono anche stata Molto onesta nel dire Voi siete stati fortunati Perché mi avete trovato In un stato zen Perché io vado in terapia Quindi ho saputo Affrontare le cose In maniera calma E a sangue freddo E non venendo lì Con le torce E darmi fuoco Come tutta risposta Di questi mail Loro mi hanno risposto Punto per punto A tutte le cose Al che La roba del dottorato Gli ho detto Sono stata molto onesta Ho detto Sentite io questa cosa Ve la dico Ma non me ne frega più niente Io non sono più interessante A fare un dottorato Nella vostra facoltà Per il semplice fatto Che onestamente Questa esperienza Non mi viene voglia Di fare un dottorato Con voi Quindi Io voglio solo finire Questa magistrale Andarmene via E non vedervi Mai più Perfetto Io in quel momento Non sapevo Non sapevo Che sono stata accettata Al dottorato A Sherbrooke Quindi Loro mi hanno risposto Alla questione del dottorato Parandosi un po' il culo Anche lì Ho detto Vabbè Ho lasciato stare Perché per me Quel discorso è chiuso Non mi interessa più Poi Mi hanno spiegato Che la mia relatrice Invece È andata A sparlare Di me Dicendo che sono stata io Che sono stata poco professionale Che sono stata io Che non l'ascoltavo Che è sempre stata Tutta colpa mia Al che io ho detto Ok La mettiamo così Io ho tutte le email Che ho scambiato Con questa persona Ho tutte le email Scambiate con il dipartimento Ho tutte le email Scambiate con la segreteria Ho un sacco di prove Di quello che sto dicendo Perché ho tenuto Tutte le email Quindi ho detto Volete fare questo gioco? Bene Io voglio fare adesso Un meeting Dove io vi porto Tutte le mie prove Ve le stampo pure Se volete Ve le metto in ordine cronologico Ci faccio Un poster Presentation Se volete Però io ho tutto Quello che serve Per effettivamente Dirvi che Io ho ragione E non lo dico Perché sono scorpione Ma perché effettivamente In questa situazione Siete stati delle merde Voi non ho detto questo Però ecco Non hanno voluto Non hanno voluto Hanno detto That's not useful That's not necessary E io ho detto Ah sì Non è necessary Perché sapete benissimo Che siete delle merde Sapete benissimo Che sono una poraccia E non posso denunciarvi Però io avrei potuto Assolutamente denunciare Queste persone Con tutto ciò che hanno fatto Quindi mi hanno detto Possiamo proporti Un'altra cosa Ovvero Invece di fare la tesi E in questo momento Hanno detto Hanno fatto quasi Un piccolo Come si dice Una piccola minaccia Del tipo Beh sai Se cambi il tuo relatore Sappi che noi comunque Conosciamo tutti i professori Del dipartimento E nessuno vorrà Lavorare con te E io ero tipo Excuse me Quindi sono rimasta Molto tipo Wow Che carini che siete Sembrate proprio Un piccolo gruppetto elite Cioè tipo I volturi di twilight Minchia Quanto vi prenderei a botte Al che io ho detto Wow Complimenti Altrimenti mi hanno detto Puoi fare l'opzione Senza tesi Ma devi prendere Più corsi Perché i corsi Li avevo già terminati E poi Invece di fare la tesi Fai un paper Semplicemente un po' più lungo Quindi fai Un e-say Di tipo 30 pagine Che comunque È un bel po' di pagine Però comunque Quel paper Sarà Corretto solo Da una persona Cioè da un insegnante Che puoi scegliere Assolutamente tu E basta Quindi non hai tutto Il processo della tesi Perché qui in Canada Funziona in maniera Molto diversa Se avete voglia di sapere Come funziona La questione della tesi Io ci ho fatto un video Anni fa Quando facevo La mia prima magistrale A Sherbrooke Se mi ricordo La lingua qua sotto Se no andate nella playlist Canada E dovreste trovarla Se non c'è Significa che magari Vorrei fare un video Aggiornamento Quindi funziona In modo molto diverso Quindi semplicemente Hanno detto di prendere Questi corsi in più Al che io ho detto Ok ma i miei sei mesi Che io ho sprecato Scrivendo una tesi Che l'ho completata Che io quella tesi L'ho scritta e completata Era pronta da mandare Letteralmente Cosa ci faccio? Ho detto Mi dovete contare Tutto quel lavoro Che ho fatto In questi sei mesi Togliendomi Dei corsi Perché non voglio Fare tutti questi corsi Perché poi Le devo pagare Devo pagare un altro trimestre Devo pagare di tasca mia Questa stronza Non mi ha fatto Partecipare Alle borse di studio E io adesso devo tirare fuori Altri soldi Che non ho Perché in generale Questi soldi Che ho pagato Per questa magistrale Erano soldi Per un futuro dottorato Invece no Ho dovuto sprecarli Per una seconda magistrale Di merda Quindi alla fine Hanno Sono stati D'accordo Con questa cosa Mi hanno considerato Il lavoro Che ho fatto Come tesi Come se fossero Dei corsi Mi hanno dato anche Un voto E poi mi hanno detto Però devi prendere Altri corsi Ok top Ho detto Vabbè Questi me li posso Permettere di prendere Quindi ecco Perché in questo momento Io sto facendo Sia i corsi a Montreal Sia i corsi a Sherbrooke Perché praticamente Io dovevo tornare All'università di Montreal A settembre Però Mentre stavo litigando Con questi stronzi Ho ricevuto Ho ricevuto L'accettazione Al dottorato Di Sherbrooke E non Potete capire Che quanto Ho goduto Quanto ho goduto Nel mandare L'email Di risposta Perché stavo ancora Litigando con loro Dicendo Ok Accetto la vostra proposta Faccio questi corsi Che mi mancano Che mi chiedete E poi farò Questo easy paper Ma sapete Che non lo scriverò Dall'inizio Utilizzerò qualcosa Che ho scritto Già da qualche Altra parte Lo allungherò Per arrivare A quelle 30 pagine Also Sono stata Accettata Dottorato Quindi Non inizierò Quest'autunno Ma tornerò Da voi L'inverno Perché in questo momento Voglio concentrarmi Su quello che è Davvero importante So yeah È stata comunque Una vittoria Sbatterglielo in faccia Perché loro hanno detto Però sai Se fai questa opzione Senza tesi Ci sono meno chance Per te di entrare Al dottorato Al che io ho risposto Io comunque Ho un'altra magistrale Questa è la seconda magistrale Quindi quella Senza valore per me Perché la mia prima magistrale Era una magistrale Con la tesi Una tesi Oltretutto Che ho scritto lunghissima Dove ho fatto Che praticamente Se io dovesse Entrare al dottorato Comunque Quella magistrale Mi vale Perché è stata Magistrale con la tesi Questa di Montreal È semplicemente Stata una cosa In più Che sicuramente Ha aiutato Per entrare al dottorato Per il semplice fatto Che avevo dei voti Molto più alti Ed era anche Una seconda laurea Era comunque Delle cose in più Però Comunque Io ho detto Non mi interessa Perché io comunque Un'altra magistrale Ce l'ho Se ti vuoi Che non la prendete Sul serio Il fatto che Io un'altra magistrale Ce l'ho Quindi per concludere Io in questo momento Sto finendo i miei corsi A Montreal Sto facendo quelli a Sherbrooke Quindi due volte a settimana Sono a Sherbrooke Quindi mi faccio La strada Delle due ore Andate e ritorno Quindi quattro ore al giorno E poi due giorni Sono a Montreal Per fare questi corsi Che mi mancano Per finire Quindi in questo momento Sto andando un po' Fuori di testa Perché Sono tanti i corsi Sono veramente tanti Oltretutto il mio relatore Quello di Sherbrooke Quello che sarà il mio relatore Per il dottorato L'ha scoperto l'altro giorno Sta cosa Mentre stavo parlando Con un mio compagno Che mi stavo un po' lamentando Il mio professor Cioè lui mi ha sentita E mi ha detto Comunque Ho sentito questa cosa Che hai detto Io ho detto Oddio che c'è Non posso fare due università Allo stesso tempo Oddio mi è venuto un po' il panico Mi ha detto Mi raccomando Perché non è molto facile Fare tutti questi corsi insieme Soprattutto tu che vieni Da Montreal Devi fare la strada Quindi mi raccomando Ok Io ho detto Sì lo so E che non avevo tanta scelta Perché o era adesso In inverno O mai più Dopo non avrei potuto Rifare questi corsi Perché hanno delle regole strambe Quindi in questo momento Sto facendo queste due università insieme E sto provando Oddio Supremo Vomito ogni volta Che vedo L'università di Montreal Perché purtroppo Mi hanno lasciato Mi hanno lasciato Tanti traumi E non per l'università in sé Perché l'università Non vado niente male Io con i corsi Mi sono trovata bene Anche in questo momento I miei corsi a Montreal Sono bellissimi Mi sto divertendo un botto Devo leggere tipo 50 libri Anche di più Forse entro aprile Ma questi sono altri discorsi Però i corsi mi piacciono Solo che sono tanti Cioè per il Solitamente Per fare un trimestre E farlo bene Devo avere la metà Di quello che sto facendo In questo momento Quindi in questo momento Sto facendo il doppio del lavoro Di quello che ho fatto Da settembre a dicembre Con il dottorato E in più Ho anche una situazione Un po' sensibile In generale Nella vita E quindi Non è molto facile Quindi detto ciò Questo è un po' Il mio dramma Con l'università Ecco perché Sono un po' esaurita Ecco perché Ho dei periodi Un po' Brutti Soprattutto perché Siamo il 31 di gennaio Oggi E ho ricominciato Il trimestre Il 10 Quindi sono solo 20 giorni Che ho incominciato E sono già esaurita Perché so che Devo fare tante cose Devo anche partecipare A delle conferenze Devo anche cercare Di fare Papers Devo anche cercare Di partecipare A Call for Papers Insomma Ci sono tante cose Che devo fare E vi giuro Non vedo l'ora Che sia fine aprile Solo almeno Per finire il trimestre E non averci più Niente a che fare Soprattutto con L'università di Montreal Perché comunque Finito aprile Non significa che Ho finito il dottorato Ho finito altro Anzi il mio dottorato Continua anche quest'estate Ma sarà un ritmo Molto diverso Lì si tratterà Veramente Di un ritmo Da autodidatta Principalmente perché Io quest'estate Devo studiare Devo leggere Tanto 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 Perché mi aspetto I miei due esami Non so come si chiamano In italiano Sono esami Di sintesi Non so se si traduca così Perché in francese È examen de synthèse Quindi tipo Sono degli esami Che tu fai Prima di cominciare La tua tesi del dottorato Quindi Principalmente Questo per dire che Sto un po' esaurita Ecco perché Non ho tempo Per fare video di youtube Però finito aprile Prometto che Voglio tornare Perché ho tante idee Ho tante cose Di cui vorrei parlare E vedete La libertà di Parlare così tanto tempo È che Dice vabbè La gente Mi guarderà O non mi guarderà Per esempio Io sono una grandissima fan Dei video di Iris Babilonia Iris Babilonia Si chiama Sì Iris Vabbè Iris Lei fa di video Tipo di tre ore Ok E io quei video Me li guardo tutti Non tutto insieme Cioè mi guardo tipo Quei 20-30 minuti Quando mi sto truccando Eccetera Quindi lo divido Per più giorni Quindi spero che Questo video L'abbiate visto così Perché capisco Che ho parlato Un po' troppo E credetemi C'era molto di più Da dire Ma questo era Un po' per spiegarvi Com'è la mia vita In questo momento Yay Perché nessuno L'aveva capito Neanche la mia migliore amica L'altro giorno L'ho chiamata E lei mi ha detto Scusa cosa Tu stai facendo Anche Montreal merda Io pensavo Che l'avessi droppata Perché effettivamente Tanta gente Mi ha detto Doina Sei già entrata Al dottorato Cosa cazzo Te ne frega Di questa seconda magistrale Però rica Ho speso tanti soldi Ho speso Tanto tempo Non mi piace Lasciare le cose incomplete E ci tenevo Perché effettivamente Io ho lavorato tanto Per quei corsi Ho lavorato tanto Lezioni Ho imparato anche tanto Mi sono anche divertita Se la situazione Fosse stata meglio Cioè io Ho avuto una bella esperienza Con soprattutto Quei corsi Quei prof Ma non ho avuto Una bella esperienza Dal punto di vista gestionale Quindi Niente Spero che Il mio relatore Dal phd Sia meglio Di quello che ho avuto Di questa esperienza Però sembra veramente Una persona adorabile Sembra una persona Molto più Molto più calma E carina Anzi Il fatto che lui Abbia orrigliato Diciamo quello che io dicevo Al mio compagno Cioè neanche orrigliato Era lì in classe Io mi stavo Semplicemente lamentando E si sia preoccupato Di dirmi Guarda Stai Stai Cioè Cerca di Di fare le cose con calma Non stressarti Mi raccomando Sai Non sono cose facili Soprattutto Considerando anche Il fatto dei ritmi Che hai Il dottorato Quindi Ho apprezzato molto Questo gesto Perché non toccava a lui Dire Non andare fuori da testa Però non vi preoccupate Perché sono tornata Sugli ansiolitici Quindi Viva le droghe E Detto ciò Niente Chiudo il video Veramente qui Perché Probabilmente Avrà fuori una cosa Ma 40 minuti Spero di no Però Se siete arrivati Alla fine di questo video Lasciatemi un coricino Semplicemente O lasciatemi tipo L'emoji Dell'abbraccio E io capirò Non dovete Veramente Per forza Non vi preoccupate Per me Io sto bene Sto assolutamente Una meraviglia Ma non posso promettere Che a fine aprile Sarà una meraviglia In tutto ciò Slay all day Ci vediamo al prossimo video Spero di poterne fare altri Prima di aprile Ma se non riesco Prometto che Verso maggio Mi vedrete di nuovo Quindi nel frattempo Mi trovate su instagram Anche lì Sono un po' Lattante Però ecco Quindi Buona giornata Io Non ho bevuto il mio tè Perché ho blatterato troppo Quindi il mio tè adesso È Freddo Ciao a tutti Ci vediamo la prossima volta